C***o prima scena Ciao a tutti, oggi per la prima volta prenderemo tre favi da quest'arnia che è asciamato ad aprile e andiamo avanti e vediamo come va L'hanno sbattuto contro la mano, svelto, che bello Ecco, andiamo a mettere, guardate che bello nero è questo, qui sta se è di castaggio Questo si crea a spremitura e questa ovviamente c'era pure al 100% che poi lavoreremo Ovviamente con la spremitura a mano non c'è la perdita dei profumi e di tante altre sostanze erganolettiche che ha il miele che sono termosensibili e si perdono nella smiratura centrifuga Riempiamo il nostro primo vasetto di miele con favo inserito Oggi è il 20 giugno? No, sì, è il 29 Vero, sono rimasto indietro Vedere? Ecco Che bello Aiuto Lo prendiamo Aiuto Vattene, 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 te pizzica No, vado, vattene Ti fai così, te punge però Ferma, ferma, te muove Secondo Ciao a tutti, oggi prenderemo per la prima volta tre favi da quest'arnia qui che è la prima stagione cioè la seconda Taglia È la prima stagione cioè la seconda Taglia Ciao a tutti